allora ospite del nostro salottino qui in via del babuino a roma, aurora peres, hai visto cosa tu ho allestito? è meraviglioso, è bellissimo, cosa vuoi di più? parlare di cino in un posto del genere? i profumi poi è bellissimo, esatto, esatto, senti aurora, io vado subito al dunque, bellocchio, com'è lavorare sul set di bellocchio? allora è meraviglioso ma questo insomma un po' si sa, però da attrice non c'hai un po' di soggezione nel senso che poi arriva bellocchio e dici guarda io credo che sia uno degli artisti più aperti curiosi e che ti mette a tuo agio almeno con me ha fatto sempre così che tu hai iniziato quando è stata la tua prima volta con bellocchio? nel 2005 per il regista di matrimoni l'avevo incontrato per caso perché avevo accompagnato una persona a fare l'audizione e poi ti ha detto puoi venire anche tu un attimo? spero che l'altra l'abbia presa in coppia si 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 succedono le cose che finiscono le amicizie poi no 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 sono presa insieme sono presa insieme quindi scusa questa è il quarto quinto set che fate? si perché il regista di matrimoni poi vince e il traditore c'è stato un attimo e poi si quarto quarto e questo è il ruolo più impegnativo diciamo insomma che su cui lui mi ha fatto lavorare anche anche perché poi ci avevi dietro un personaggio reale si che è maria fidamoro si è stato molto interessante e quella c'è stata la pressione però cioè quando guarda un conto interpretare un personaggio che bene o male è finzione ma quando c'è un personaggio così poi soprattutto c'è la storia dietro ma c'è stato un grande rispetto verso la storia e verso questa persona realmente esistita sia da parte del regista che della produzione che chiaramente da parte mia e nel momento in cui mi sono focalizzata sul lavoro hai dimenticato ho dimenticato mi sono concentrati perché se no si certo no se no è talmente tanto è in basta la storia è enorme si inizia a pensarci ti perdi con grande rispetto appunto con tutta la documentazione il mio mestiere è l'attrice devo fare l'attrice si ho studiato chiaramente ho letto i vari libri ho studiato tutto quello che riguardava la storia parte la parte politica con grande rispetto e che è tutto affatto poi vederti è stato molto emozionante perché è comunque molto distante da me chiaramente e come in tutti i lavori c'è sempre qualcosa di te ma è stata è stato un lavoro che è stato molto legato al dolore al alla reclusione insomma perché la situazione che stavano vivendo loro nella famiglia moro insomma era stata era un altro tipo di galera quindi un altro tipo di prigionia scusami non ho detto galera ma sbagliato però insomma sì ma e tu quando ti rivedi 6 riesce a essere neutrale oppure dici no 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 detesto guardarmi ma penso molte persone detesto guardarmi non mi riconosco faccio gente che non si riguarda proprio no devo farlo devo farlo anche per impanare per studiare sempre di più quello di questo si dice spesso non si guarda e poi dice di lì potevo essere meno lì più una donna ma sono super perfezionista poi quindi ogni cosa proprio però l'ho dovuto fare intorno invece amici famiglia come sono e supporti sì super super però c'è anche qualcuno che dice sì però ma allora io poi servono anche quelli c'è alla fine se tutti ti fanno complimenti no 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 vabbè la mia famiglia è super sostenitrice insomma però amici e amiche che sono attori e attrici anche abbastanza che stimo molto sono sempre stati lì a dare un feedback che sia realistico insomma vero certo ma è la stessa cosa che io faccio con loro insomma cioè tipo Eleonora Giovanardi se uno gli dice no no ma è Eleonora Giovanardi ha detto allora no no ce lo facciamo insieme anche perché abbiamo lavorato insieme sì 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 ma comunque abbiamo fatto uno spettacolo con Matthew Lenton e con Ert che è 1984 di Orwell così una cosetta una cosetta così così è detto cosa facciamo sì e quindi abbiamo lavorato insieme su quello siamo sempre state molto molto capirai tra me e lei esatto rigide però sì anche con molta morbidezza insomma perché tanto la durezza non serve nel migliorare sentiamo ma chi è invece il tuo mito il tuo riferimento l'attrice quella che dici se riuscisse a fare anche metà di quello che ha fatto lei sarei a posto così vabbè io amo follemente Monica Vitti l'amo follemente e poi sai chi la quale la Vitti Antonioni la Vitti più comica le amo entrambi però la entrambe però chiaramente vado molto più sul comico comico che poi era tragicomico sì sì che poi la parte anche più difficile cioè fare quella roba lì in realtà è sì e poi amo molto Phoebe Waller Bridge ma Fleabag Fleabag ma perché quando un artista mette proprio l'autorialità in tutto quello che fa per me sì c'è il suo libro e amo purtroppo è morta da poco Helen McCrory che era l'attrice di Peaky Blinders per me lei era veramente che poi fa parte di tutti quei caratteristi tra virgolette poi anche limitando i caratteristi che però sono dei sono quelli poi soprattutto nel teatro inglese o in cina inglese che fanno la differenza ma ho visto poi dei video suoi di Medea di The National Theatre che era pazzesca proprio una cosa altra e poi lì c'ha una... tu hai fatto tanto teatro hai fatto anche Costellazione adesso tornerai a teatro cioè hai detto prima a Genova sì tornerai a teatro a Genova con... con cosa? con l'Emnos che è stato scritto dalla compagnia Blue Motion dove la regista è Georgina P sì la compagnia dell'Angelo Mai e sono molto orgogliosa insomma di farne parte è stato un percorso che abbiamo fatto in questi anni sempre a crescere a crescere ma se dovessi scegliere però tra teatro cinema tv non so scegliere nel senso che nel momento in cui c'è del valore grande in tutte queste opere che non so scegliere amo il cinema profondamente quello su cui adesso mi sto concentrando è il cinema tanto ma se ti chiamassi un regista adesso qua ti dice adesso finisce l'intervista prendi il telefono è un regista che ti dice chi vorresti che fosse? Virzi ah Paolino Virzi sì io voglio lavorare con Virzi Paolino Virzi perché Virzi perché ti piace come personaggi di... sì il suo lavoro sintetizza tutto quello che ho sempre sognato e poi di nuovo Bellocchio ci lavorerei mille altra volta sì 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 però Virzi tanto e credo che in questo momento ci siano anche tanti altri registe e registi che stanno fiorendo giovani con cui vorrò lavorare senti ma con Eleonora ne parliamo spesso anche di questo visto che poi lei è coinvolta con Amleta è cambiato qualcosa dal punto di vista dopo il Me Too dopo tutte le... sì credo che ci sia più consapevolezza e ho visto anche da parte degli uomini più cura e attenzione quello sì è un argomento molto delicato questo ma in Italia anche sì in Italia io ho lavorato tanto in Inghilterra in Gran Bretagna e lì è veramente tanto presente questo tanto e poi c'è anche una paura poi no è diventata esatto c'è quello quella forse meno sana diciamo come cosa bisogna trovare bisogna capire appunto lì dove si riesce a vivere e respirare dentro a quello che è il rispetto e l'ascolto e sì anche a vivere in maniera più normale no nel senso normale cioè con la parità l'equità ma normale non che sia poi il terrore del dire la cosa sbagliata ma credo che questo sai come si può risolvere con l'informazione cioè nel momento perché vedo molti amici e molte amiche che dicono non so come devo fare non so come devo dire ma secondo me parlarne parlarne con tranquillità sempre nel momento in cui si sa qualcosa in più credo che si allenti molto l'attenzione la consapevolezza anche poi sale la consapevolezza sì nella generazione più giovane senti ora qual è invece da spettatrice cosa che guardi cosa ti piace guardo sia tanto cinema che molte serie tv soprattutto per ora mi sono innamorata di Succession di I May Destroy You e come spettatrice beh I May Destroy You pure noi abbiamo raccontato su Hot Con sì ho visto potente molto molto anche lì anche lei mi piace tantissimo come e amo il fatto che lei abbia scritto e si abbia interpretato insomma questo è un po' anche la produzione è coraggiosissima perché alla fine in Italia non so se è una cosa del genere sarebbe riuscita a passare speriamo che possa succedere una cosa del genere ma veramente ma il tuo fin d'isola deserta invece qual'è? City of God City of God di Fernando Meirel lo sai che l'ho visto una volta per tre volte di seguito ma dai cioè l'ho visto e appena ho ricominciato ho ricominciato a rivederlo a riguardarlo e mi sono resa conto che l'avevo visto per tre volte di seguito perché ci sono tutti questi e queste relazioni che carnicamente si ripetono che mi avevano proprio preso ho detto ecco perché all'inizio forse sfuggono delle varie relazioni parentarie e dopo le ritrovi dopo sì e anche Respiro mi piace molto è un film che mi porto sempre sì ah vedi per due titoli completamente diversi però sì che mi piacciono un sacco City of God City of God è bellissimamente bellissimo quello lo potrei riguardare sempre è veramente un grande film senti dopo teatro cosa stai progettando? c'è qualcosa nel cassetto? ehm che non si può dire sì ancora ancora non lo possiamo dire però sì ho avuto un'altra bella esperienza in un set cinematografico con Daniele Spinosa ah recentemente ah Daniele Spinosa e come si chiama il film? Madame Luna ancora il titolo è provvisorio Madame Luna eh e chi c'è? e la protagonista è gli italiani sono Claudia Potenza Emanuele Vicorito ah pare di Cicirello questi sono la parte italiana italiana e poi il casting la protagonista è Meninette ed è una un'attrice che è la sua prima esperienza intanto Spinosa ha fatto pure uno dei film della serie donne che odiano gli uomini forse uno dei primi o forse il primo lui sì lui è non me lo ricordo questo ho visto molti dei suoi film però questo qua questa cosa non la sapevo sì grazie forse perché secondo me sì perché lui è svede cioè cileno però esatto vive in Svezia sì esatto esatto e quindi sì esatto senti per chiudere facciamo il gioco che facciamo qui a Lot Corner domani organizzi una cena e puoi invitare quattro persone di tutti i tempi da Napoleone a da Napoleone a Monica Vitti allora Monica Vitti per prima ci vuole poi siamo a Roma via del Babuino tanto siamo a 200 metri da casa sua che stanno sì poi vorrei Copernico ah sì no perché io vengo da una famiglia di astrofisici ah ok quindi no 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 quindi tutto quello che la scienza cioè tu sei Sheldon sei Biblia and theory Marie Curie ah Marie Curie ok Copernico Marie Curie ma poi mi sto prendendo conto che molte donne e poi vabbè ehm io Diana la principessa Lady Di la vorrei proprio sai che siamo andati allo stesso giorno pure ah sì? sì ma immagino che ci saranno tantissimi altri personaggi che vorrei incontrare in questo momento vabbè la cena è quella sì però Lady Di e Monica Vitti diciamo che si abbia un incontro curioso sì perché secondo me Lady Di era molto simpatica eh sì pensa un po' come una bottiglia di vino rosso e magari chissà che succede sì 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 quindi sono loro che va bene bella cena io vengo a fare il cameriere va bene ma tu sei il benvenuto super benvenuto non so di che cosa potremmo parlare penso vabbè ah sì 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 io faccio il cameriere comunque va bene va bene certo Aurora Perez ci vediamo la prossima volta dove? a Genova? a Genova dai vediamo a Genova a vedere lo spettacolo quando inizia? il 16 ottobre adesso vabbè quindi domenica grazie mille ciao grazie a te ciao